Musica Politica alle due coalizioni rispondono colpo su colpo, Campagnolo accoglie i 5 stelle Viste d'attesa lunghissime, scopia la polemica sull'uso degli specialisti interni per ridurle Lira di Fratelli d'Italia sulla coalizione di centro Un misto bosco, dice Gian Gregorio Roberto Marini incassa l'appoggio di azione e si prepara a ufficializzare la sua candidatura Aprirà il 3 maggio la Pedemontana con l'accesso sull'A4 ma scoppiano le polemiche sui costi Fassa San Michele, quartiere pretende più trasparenza dall'amministrazione Pavan Taglio del nastro del centro culturale di Mussolente intitolato al compianto dottor Giampaolo Negri Torna la paura Stoccaredo di Gallio, altro incendio nei prati sopra la frazione Carmignano di Brenta, la cittadinanza è chiamata a progettare Piazza Marconi con le proprie idee Buonasera e benvenuti al Tg Bassano, apriamo questa edizione con la politica Perché la coalizione di centro-sinistra guidata da Roberto Campagnolo si apre e accoglie i 5 stelle La presentazione è venuta questa mattina, vediamo il servizio Se da una parte c'è un laboratorio, dall'altra c'è una catena di montaggio ben avviata La coalizione a sostegno di Roberto Campagnolo, sindaco, cresce e aggiunge al suo motore anche il sostegno del Movimento 5 Stelle Una scelta di coerenza, dicono sia in casa PD che in quella di Bassano Passione Comune e più Europa Noi stiamo insieme perché condividiamo una visione comune di amministrazione della città Che è una visione coerente con il percorso delle liste e dei gruppi politici che mi sostengono Ma soprattutto ci sono idee innovative e importanti per il futuro di Bassano E allora, adesso che la coalizione di centro-sinistra può definirsi ufficialmente una coalizione stellata Resta da capire se alla catena di montaggio della nuova Bassano c'è posto per qualche altra presenza Termine scelto non a caso perché deve far rima con coerenza Quella che Campagnolo fatica a vedere altrove Gli altri si dividono o fanno le somme puramente algebriche Noi stiamo insieme su idee comuni che è la cosa più importante e sulla visione comune del governo della città Uno dei temi centrali della campagna elettorale e del programma amministrativo è la sanità Lo chiedono i cittadini, lo richiede la situazione con cui i pazienti e famiglie si trovano costretti a convivere Noi abbiamo intenzione di intanto semplificare il rapporto del cittadino verso la struttura sanitaria Mettendoci dalla parte del cittadino, cioè dobbiamo cambiare radicalmente questo rapporto L'amministrazione comunale non è un interlocutore qualsiasi È un interlocutore che rispetto alla struttura sanitaria, alla richiesta della visita, dell'appuntamento, dell'intervento Rispetto ai problemi del cittadino è dalla parte del cittadino E questo lo faremo istituendo un ufficio apposito Abbiamo visto che già nelle precedenti presentazioni delle coalizioni si era parlato di sanità Se ne è parlato anche oggi come avete sentito e i 5 Stelle scendono subito in campo sull'argomento La sanità locale non è solo un punto del programma elettorale Ascoltando le dichiarazioni del candidato sindaco Roberto Campagnolo E degli esponenti del Movimento 5 Stelle presenti La sanità locale oggi è il punto Un problema, una tematica al centro delle riflessioni e della volontà di cambiare le cose È il nostro preciso impegno riuscire a fornire ai cittadini tutta una serie di sistemi Per bypassare alcuni problemi che sono molto presenti a tutti quanti nella sanità pubblica In primo luogo le lunghe liste di attesa Come amministrazione punteremo a dare un supporto diretto ai cittadini Per riuscire ad avere accesso a quello che è importante per tutti ed è il diritto sacrosanto alla sanità pubblica Quello delle liste d'attesa è un grosso problema perché noi dobbiamo partire dal presupposto Che se un medico di base fa un'impegna attiva ad un paziente per una visita specialistica Che deve essere fatta in 30-60 giorni C'è un motivo Devono essere fatti degli accertamenti per la salute di quella persona Queste persone si trovano che chiamano al CUP o si presentano al CUP Non c'è posto, vengono messi in lista d'attesa E magari a distanza di un anno o quasi non sono ancora stati richiamati Questo va indirettamente a favorire la sanità privata Di fatto quello che noi proponiamo è di istituire uno sportello comunale Per dare assistenza anche legale dove e quando serve A tutti quei cittadini che abbiano questo problema Il problema delle liste d'attesa lo abbiamo visto anche con le tante segnalazioni che ci arrivano su questo tema E' molto molto sentito dai cittadini Arriva una proposta e una polemica Sono dei fondi che il governo dà alle varie regioni tra cui il Veneto L'anno scorso sono stati spesi oltre 29 milioni di euro Una cifra importante E' che sono andati questi soldi Una buona parte al privato convenzionato Quindi ai poliambulatori privati convenzionati con la regione Una parte agli specialisti ospedalieri Che lavorano in gran parte negli ospedali e non sul territorio Sono stati tenuti fuori stranamente Oltre 1100 medici Che invece sono specialisti ambulatoriali Che sono convenzionati a tempo indeterminato con la regione Io sono uno di questi medici specialisti ambulatoriali La domanda è Come mai la regione per l'ennesima volta Non ha chiesto anche a noi Anche a noi Anche agli specialisti ambulatoriali interni Di contribuire ad abbattere la lista di attesa Si privilegia ancora una volta il privato? Non è che il problema è essere contro il privato Il problema è perché le risorse che già ci sono Che lavorano specialisti che conoscono già i pazienti Perché noi conosciamo già i nostri pazienti Vengono tutti fuori di questo progetto Che darebbe anche tra l'altro un piccolo incentivo Per chi vuole lavorare Perché poi tra l'altro è su base volontaria Per tutti i medici Non è obbligatorio Quindi se io volesse lavorare il sabato Per recuperare 15 pazienti O un giorno che sono libero A fare un ambulatorio in più O rimanere due ore in più Per recuperare le liste di attesa Non capisco perché questo non venga fatto 1100 medici specialisti in tutto il Veneto 160 solo in provincia di Padova Le mie visite come specialisti ambulatoriali di diabetologia Ormai siamo a luglio 2025 Per quello che riguarda il mio ambulatorio Però non è una cosa a cui devo rispondere io Le faccio una domanda Provi a prenotare al CUP qualsiasi visita specialistica Ed è una domanda che ci fanno anche tanti nostri telespettatori Adesso torniamo a Bassano Torniamo a parlare di politica Perché lo strappo Quello che è stato definito lo sbrego Fra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia A Bassano che sono ancora in coalizione di governo Della città Sta facendo molto rumore Il centrodestra è Fratelli d'Italia Non c'è altra collocazione E non c'è altro partito Che lo possa rappresentare in questo momento Qui a Bassano Non le mandano certo a dire I fratelli d'Italia bassanesi A quello che era un alleato nel centrodestra cittadino Regionale e nazionale E che ora rischia seriamente di diventare un avversario Da battere nella corsa alle comunali di giugno Il varo della nave della coalizione di centro Al cui timone c'è il leghista Nicola Finco Ha suscitato parecchia rabbia a destra E piovono le critiche sulla scelta del carroccio Una cosa è certa Il centrodestra Non è sicuramente Questo misto bosco Che ho visto ieri Insomma Che la Lega sia andata con Forza Italia Ci sta Mentre il partito della Meloni Osserva con perplessità La democrazia cristiana Ma proprio non manda giù Gianni Castellan E Italia Viva La Lega ha deciso di Fare questo passo Con la democrazia cristiana E ripeto Con Italia Viva Italia Viva Roma Credo che non abbia Non veda di buon occhio I nostri leader E quindi Li vorrei vedere poi seduti al tavolo E capire Di cosa Di cosa si parlerà E quindi Quindi le ipotesi sono tre Per i fratelli d'Italia bassanesi Supportare Elena Pavanna Fuori dalla Lega Entrare in coalizione Oppure correre Con un proprio candidato Un candidato di fratelli d'Italia Potrebbe anche essere Però Partiamo da un presupposto E il presupposto Che noi abbiamo sempre Lavorato per un centro Del Sto Unito Abbiamo Ma sempre Rispettato Quello che era Un dettame Che è venuto meno In questi giorni qua Che era quello appunto Del sindaco uscente Intanto Roberto Marin Incassa Il sostegno Di Carlo Calenda E di Azione Roberto Marin Incassa L'appoggio Di Carlo Calenda E prende a bordo Azione È stato un momento Importante È stato riconosciuto Che la nostra Lista civica Viene riconosciuto Un ruolo Di governance Fatta dalla gente Per la gente L'accordo con Azione È solo un punto Di passaggio In un percorso Iniziato molto tempo fa E che punta A una candidatura Di Marin Che sarebbe ormai Dietro l'angolo Certamente Abbiamo incassato L'appoggio Di Azione Proseguiamo Con il progetto Il nostro progetto Verso la città Di rinnovamento Di trasformazione Verso Alcuni elementi Fondamentali Di cui la città Ha bisogno E merita Di ricostruire Una leadership Una terrivolezza Che deve Che il bassano Si merita E che deve Riprendersi Restano aperte le porte Ad altre forze politiche Ma le trattative Intavolate fin qui Non sono state proficue Anzi Abbiamo avuto Colloqui Ci siamo confrontati Sui programmi Sulle persone Per alcune situazioni Siamo stati Convocati Dopo aver fatto Alcune scelte Quindi Da questo punto di vista Noi proseguiamo Perché Rispetto a quello Che si sta A queste scenete Che sono poco Edificanti Per la città Noi invece Desideriamo Metterci seriamente Concretamente E soprattutto Sto riguardando Prima di tutto La dignità personale E soprattutto Anche la coerenza Che è una cosa Di cui la città Ha bisogno Una campagna elettorale Decisamente scoppiettante Molto molto interessante Che noi vi racconteremo Qui nel nostro Telegiornale Anche perché Giravoce Che in serata Ci sia una riunione Di fratelli d'Italia Per decidere Come muoversi Quindi è ipotizzabile Che già All'inizio Della settimana prossima Ci sia uno schieramento Completo Nella politica Bassanese Adesso cambiamo argomento Andiamo a vedere Quali sono le polemiche Sulla Pedemontana Che aprirà L'innesto Sulla A4 Il 3 maggio Ma che insomma Qualcuno dice Davvero che Rischia di costare Troppo ai Veneti SPV Ufficializzata Nelle ultime ore Dal Presidente Della Regione Veneto Luca Zaia La data di apertura Dei due innesti A4 Della Pedemontana Veneta Sarà il 3 maggio Prossimo Bene Verrebbe da dire Ma intanto Continua a pesare Molto Il costo Dell'infrastruttura Che preoccupa Le opposizioni Soprattutto dopo Le dichiarazioni Della Vice Presidente Elisa De Berti Qui si oppone La consigliera Dem in Regione Chiara Luisetto La proposta Dell'assessore De Berti È di spalmare I costi Della Pedemontana Aumentando il pedaggio Della Brescia Padova Ci sembra francamente Una proposta assurda Che ancora una volta Prende in giro I cittadini In particolar modo Quelli del tracciato Della Pedemontana Ai quali Era stata garantita Era stata garantita La gratuità Del pedaggio Poi erano state garantite Delle riduzioni E ora sembra Che il modo Per scaricare i costi Di questa Superstrada Costosissima Che ai Veneti Sta costando E costerà Molte centinaia Di milioni di euro Finiscano Per essere spalmati Su un'altra Autostrada E ricadano comunque E sempre Sui cittadini E le cittadine Di questa regione E per 39 anni Il Veneto Pagherà Al concessionario Un canone Pesantissimo Un canone Che il presidente Zai E la giunta Ritiene Verrà corrisposto Dai pedaggi E dai ticket Ma con pedaggi E ticket Così alti E così costosi Pochissimi cittadini E cittadine Si potranno permettere Questa superstrada E certamente Non è la soluzione Spalmarne i costi Su un'altra arteria È veramente Prendere in giro Il Veneto Quello che ci sembra Che questa ennesima Proposta Sembra essere Un trascinamento Verso la fine Di questo mandato Poiché dovrebbe avere Effetti dal 2027 Quando tutti i responsabili Saranno spariti A imprese Cittadini Non resterà Che pagare Fas a San Michele Il quartiere Si muove La preoccupazione È lecita In questi casi La cittadinanza Si è Da subito Ha da subito Chiamato Il consiglio Di quartiere Tutti i membri Insomma noi abbiamo Ricevuto decine Decine di telefonate Di gente preoccupata E non solo Diremo da San Michele Addirittura da fuori comune I Fas riscontrati Nelle acque di San Michele Preoccupano i cittadini Al di là Delle rassicurazioni Fornite Dall'assessore all'ambiente Andrea Viero Alla città non basta Chi vive lì Vuole risposte chiare Alle domande Che ad esempio Le minoranze Hanno rivolto Alla sindaca Elena Pavan Minoranze Che compatte Puntano Poi la lente D'ingrandimento Sulla data Dell'ultimo prelievo Di analisi E sulle iniziative Che la sindaca Pavan Ha intenzione Di porre in atto Per informare I cittadini Noi ad oggi Prendiamo atto Di quello che L'amministrazione Ha attualmente comunicato Dunque soprattutto Del fatto Che attualmente Non ci sono specifici Problemi Per la salute pubblica Però da oggi in poi Chiediamo che ci sia Un dialogo proficuo Con il consiglio di quartiere Perché i consigli di quartiere Sono soprattutto In questi casi Il primo ricettacolo Dei dubbi Delle angosce Delle perplessità Della gente E proprio sul tema Del dialogo Tra quartieri E amministrazione C'è molto da migliorare Quello che mi sento Comunque Magari di suggerire Insomma Visto che a breve Ci saranno Ci sarà una nuova Amministrazione È quella di valutare Magari la creazione Di un assessorato Specifico Riferito ai quartieri Oppure Di un ufficio Proprio specifico Che capti Veramente Tutte le esigenze Dei vari quartieri Fino al bosco Ma il pronto intervento Dei vigili del fuoco Di Asiago Ha evitato Guai peggiori Era lo stesso posto In cui c'erano Già stati Altri incendi Alcuni di certa Matrice dolosa Nel corso Degli anni Adesso cambiamo Decisamente l'argomento Andiamo a Mussolente Per l'inaugurazione Di un centro culturale Un polo culturale Che vuole essere visto Come polo di scambio Di conoscenza Di pace Di inclusione Di socializzazione Crescita umana È per questo Che il nuovo centro Di Mussolente Che trova spazio Nell'ex municipio Ristrutturato È stato intitolato Al compianto Dottor Giampaolo Negri Un'istituzione Per il comune Proprio perché è stato Emblema Del donarsi al prossimo È l'uomo Che con molta umiltà Con molta semplicità Ha portato avanti La cultura In tutte le sue sfaccettature Non ultima Anzi forse la prima La cultura della vita Quella vita Di cui dovrà pulsare Il nuovo centro polivalente Un investimento Per i nostri giovani E un investimento Per il nostro territorio È un simbolo di pace Questo È stato anche detto La cultura Eleva le menti Ma eleva anche il cuore Quindi la cultura Come elemento di pace Che porta la gente A sapere E a discernere Le scelte più corrette E che vanno Nei confronti E nel rispetto Della vita Un milione Quattrocentodiecimila Trentadue euro E novantasette centesimi Il costo esatto Dell'opera Di cui Cinquecentotrentaquattromila Di contributo Della regione Veneto E centosessantamila Da parte del gestore Servizi energetici Un ampio parterre Di amministratori Amministratrici E esponenti politici Nel pieno stile Di una campagna elettorale Sempre più accesa Che non sono voluti mancare All'inaugurazione Di quello che è stato definito Punto di riferimento Per l'intera comunità Ospiterà Ospiterà tutta una serie Di elementi E reperti Storici Perché dalla storia Riusciamo a recuperare Il presente Il futuro Soprattutto E riusciamo a recuperare Quello che è E che deve essere La nostra cultura futura Per i nostri ragazzi In Valbrenta C'è una nuova panchina Che parla di speranza La vita pulsa Oltre la diagnosi Di demenza È con questa ferma Convinzione Che è stata inaugurata La panchina Della speranza Installata Al parco giochi Sul lungo Brenta Campolongo In comune di Valbrenta Una panchina arancione Simbolo di condivisione E comunità Per sensibilizzare Su una patologia La demenza senile E l'Alzheimer Che interessa Sempre più persone In un'età via via Più precoce Rispetto al passato Coinvolgendo Non solo il malato O la malata Ma l'intera famiglia Ecco perché Proprio partendo Da questa nuova panchina Si vuole far capire Che non si è soli Ma esiste una rete Ben strutturata E capillare Di professionisti E volontari Figure capaci Di portare aiuto E sollievo Nel momento del bisogno Magari Anche stando Semplicemente seduti Ad ascoltare Il bello rumore Del fiume Che scorre Nell'alta Padovana Carmignano di Brenta Cittadini Amministrazione Vanno a Braccetto Per la nuova piazza Valorizzare E progettare Una piazza Insieme ai cittadini Nei mesi scorsi È stato affidato Un workshop Agli studenti Del Dipartimento Di Architettura Dell'Università Di Bologna Che ha promosso Una riflessione Sull'utilizzo Degli spazi Da alcuni edifici Pubblici Del centro urbano Di Carmignano Di Brenta Gli studenti Hanno elaborato Cinque progetti Di ricerca Dell'area Che sono stati Esposti Nella sala Mostri Del municipio Nelle prossime settimane L'amministrazione Comunale Di Carmignano Presenterà Le proposte Degli studenti Di architettura In incontri Con le attività Commerciali Le categorie Economiche Le associazioni Locali Vogliamo progettare Il nostro centro Di Carmignano Di Brenta Coinvolgendo Tutta la nostra Comunità È un progetto Ambizioso Che sarà diviso In diversi stralci Che andranno In ordini di priorità Di criticità E soprattutto Anche in base Alle risorse economiche Quest'opera È stata inserita All'interno Del piano triennale Delle opere pubbliche Dove l'amministrazione Comunale Si è impegnata Con diversi milioni Di euro L'obiettivo Di dare una nuova Immagine Al paese Rispecchia Tutte le esigenze Di sicurezza E socialità Di piazza Marconi Desidero sottolineare L'importanza Di questo progetto Nella riorganizzazione Degli spazi Del centro Di Carmignano È un'iniziativa Importante E ambiziosa Che andrà A rendere il centro Più fruibile Con la riqualifica Degli spazi pubblici E l'alta padovana È sempre più Nel mirino Di chi cerca casa Vediamo come sta cambiando Il mercato immobiliare Le proiezioni Del mercato immobiliare Indicano Una crescita In questo 2024 Nel numero Di compravendite Con costanti Incrementi A livello locale Una delle aree Dove si registra Una convergenza Maggiore Tra domanda E offerta È senza dubbio L'alta padovana Con Cittadella Epicentro del mercato Cittadella Assieme ai comuni Che appunto Sono attorno Alle mure di Cittadella È un territorio Importantissimo Molto ricettivo Quindi molte persone Vogliono venire A stare a Cittadella E quindi L'aspetto immobiliare È fondamentale Un'abitazione di qualità In un posto di qualità È chiaro Che viene ricercata Il segno Più Contradistingue Comunque Tutta l'area Dell'alta padovana È un territorio Fondamentale Per il mercato immobiliare Perché è un territorio Dove l'economia È florida Dove le aziende crescono Dove le residenze Non mancano E quindi il mercato immobiliare È la prima risposta A tutte queste necessità Sempre più importante All'interno del mercato Risulta quindi Il ruolo Delle agenzie immobiliari E degli operatori specializzati Riusciamo a entrare Nelle case Di tutti gli italiani Non solo per le compravendite Che è l'attività Per cui il mondo Ci conosce forse Da più tempo Oggi Ci occupiamo Veramente Di tutto Quello che sono I servizi immobiliari Dopo di noi Alle 21 e 15 Il film Scissors Con Shannon Stone Questa era L'ultima notizia Del nostro telegiornale Noi vi ringraziamo Per essere stati In nostra compagnia Vi auguriamo Una buona serata E come sempre Vi lasciamo al meteo Grazie a tutti